Carissimi ringrazio ancora tutti di tutti questi auguri meravigliosi, non è che io sia così contento di compiere 59 anni, ve lo dico sinceramente, anche perché insomma è una data che prelude poi al 60 e non voglio offendere tutti i sessantenni presenti in rete, ma avrei voluto tenermene lontano, d'altra parte come diceva mio nono l'alternativa all'invecchiare è peggio e quindi tanto va a invecchiare e niente, è chiaro che tutte le volte che si ritorna allo zero con un nuovo decennio si fanno dei bilanci e i bilanci insomma è sempre un po' dura farli, soprattutto appunto quando si lotta prendendole da tutte le parti, ma sono anche contento, oggi sono contento, mi sento mi sento bene, sento che sono circondato d'affetto e sento che posso riprendere in mano la mia vita in maniera coraggiosa, forte, decisa, sento che ho ancora tante carte da giocare, ho dato l'ultimo ritocco al mio nuovo libro aggiungendo particolari che ricollegano i banchieri medievali di cui prevalentemente in questo testo mi sono occupato con le vicende politiche di oggi e soprattutto un personaggio politico ben preciso, molto noto, molto famoso e molto influente, chiedo scusa per il rumore stradale, che di fatto il sostegno di questi banchieri ha sempre incassato con grande vantaggio, quindi molto proficuamente. E quindi questo libro a questo punto è pronto, viene spedito sicuramente entro domani all'editore in via definitiva, si procederà con l'editing e poi con la stampa e la messa in commercio dell'anteprima. Vi ricordo la preghiera di mettervi in pari con gli altri, perché altrimenti poi quando comincio a interrogare, allora poi lì sono dolori, scherzo, ma di mettervi in pari perché comunque si sta parlando di un lavoro di tessere, di un mosaico che via via viene composto, che può essere apprezzato soltanto appunto nel momento in cui si prendono in considerazione appunto tutte le parti. E questo libro che esce è un libro di storia, veramente di storia, è un libro che il mio stesso editore ha definito impressionante per la quantità di informazioni che contiene, è veramente incredibile e quindi è un libro che può essere tranquillamente un libro di testo, ritengo soprattutto di livello universitario, ma per quel che riguarda il contenuto e l'approfondimento, nello stesso momento però è un libro che, come dire, come al solito ho scritto tenendo conto del diritto di tutti a comprendere e a conoscere senza particolari approfondimenti, senza avere un particolare background di conoscenze e quindi è un libro per tutti, come al solito, perché poi di fatto la cosa che più considero importante nel mio lavoro e in generale nel lavoro di un insegnante o di un informatore, diciamo così, di un giornalista, è sempre quello di essere comprensibili, accessibili da tutti e il più possibile divulgativi. e quindi è vietato tirarsela con i termini tecnici criptici, i paroloni e tutto ciò che in qualche modo allontana il lettore che ha tutto il diritto di non conoscere tante cose. Chiedo scusa per queste vibrazioni, sono messaggi che arrivano, che noia, ma resta il fatto che sono contento anche di questo libro, è un libro difficile ma semplice da leggere, è un libro pieno zeppo di informazioni, dicevo, ed è un libro che, come dire, smentisce da un lato considerazioni che sono state fatte, soprattutto a proposito della famiglia a cui è soprattutto dedicato, da grandi nomi della controinformazione che a mio parere hanno preso cantonate formidabili, a proposito appunto di questa dinastia, ma nello stesso momento in altro modo, con un'altra molto più affidabile, spero, e documentata, così, mole di informazioni, rivelano quanto questa famiglia ancora eserciti un potere enorme a distanza di otto secoli dall'inizio della sua attività finanziaria a Firenze e quanto altre grandi famiglie siano ancora oggi in sella nelle grandi multinazionali o nei grandi colossi finanziari e bancari mondiali, famiglie che sono, come si può dire, da molti secoli ai vertici e che hanno addirittura guidato, in certi casi, degli imperi, come per esempio l'impero romano d'Oriente. E' anche molto importante tener conto della potenzialità di queste famiglie da un punto di vista poi di aspetti culturali e quindi non solo economico-finanziari, ma anche culturali, e mi riferisco per esempio a una nuovissima, e da tempo segreta per me, perché ho fatto di tutto per non tirarla fuori in questi ultimi due anni, proprio perché volevo prima terminare questo libro e quindi puoi metterla a disposizione soltanto dei miei lettori, una nuovissima, inedita e anche piuttosto sconvolgente e destabilizzante interpretazione di quello che è il fenomeno della confusione a livello di teorie sulla sessualità che viene diffusa oggi presso i nostri giovani. una confusione, una forma di disforia che a lungo è stata ritenuta, direi da tutti, all'interno di questo ambiente antisistema, come finalizzata a attaccare la famiglia e i valori tradizionali da parte di lobby di un certo tipo e che invece assume una connotazione culturale e legata a un certo ceppo etnico ben particolare proiettando su questa situazione attuale diciamo veramente una nuova forma di decifrazione. Ecco, e quindi questo è uno dei tanti aspetti contenuti in questo libro. sapete che i miei libri hanno questa caratteristica di avere un titolo, occuparsi principalmente di ciò a cui il titolo si riferisce ma poi in realtà spesso i miei libri contengono dentro opportunamente nascoste molte altre tessere che hanno a che fare con ambiti anche piuttosto lontani. Il Rockefeller Warburg è un esempio, ufficialmente parla di queste due famiglie e in realtà parla di tutto, dai finanziamenti dei grandi banchieri ai grandi dittatori del Novecento, il trattato della Avara, la questione del Titanic veramente approfondita a livelli incredibili rispetto al poco che viene detto sui erotici degli altri e la questione degli accordi segreti che poi sottendono a quella che sarà la dichiarazione Balfour del 2 novembre 17, insomma tutta una serie di cose che il titolo non rivela. Ecco, anche questo libro è pieno di queste cose inclusa una incredibile rivisitazione di una delle più importanti congiure di tutti i tempi, la congiura dei pazzi. Bene, buon pomeriggio a tutti e buona lettura appena uscirà.